Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, quindicesimo convegno Utrade, grazie a tutti i partecipanti ma grazie anche a Virginia Gambino che organizza questo appuntamento annuale che è diventato una specie di stati generali della distribuzione di ILE e devo dire che facendo qui il percorso per entrare dal numero di postazioni delle aziende mi sembra che l'atmosfera sia piuttosto ottimistica, rilassata. Certo, come dire, ci sono i problemi, non mancano, no? Lo vedete anche dall'agenda di questo convegno, c'è l'inflazione che sfiora il 10%, però c'è ancora un anno di super bonus, c'è un prezzo dell'energia che sale, però ci sono i fondi del PNR che stanno affluendo e fanno business, poi c'è l'evoluzione del punto vendita, punto vendita che cambia, cambia con i gusti dei clienti, degli utenti, della tecnologia e c'è il tema della sostenibilità. I temi sono tanti ma quando ho detto io all'inizio grazie a tutti i partecipanti intendevo proprio in senso letterale perché questa volta siete chiamati anche voi a esprimere il vostro parere, la vostra opinione. I nostri relatori terranno conto di quello che voi adesso, in questo momento, deciderete. Come? Con un sondaggio. Riceverete via whatsapp un link, è facilissimo, basta fare click, avrete la possibilità di esprimere subito, vedo il silenzio atterrito, no è molto semplice, si fa click, vedo che prima di iniziare il 90% di voi aveva in mano il cellulare quindi non potete dire che non sapete usarlo, scegliete la risposta, ci sono quattro possibilità, è assolutamente anonimo, quindi voglio dire non ci sono problemi di privacy, è un parere che poi viene riassunto collettivamente in una torta che vedremo, vedremo subito dopo. Quindi io direi di, siccome è già tardi, di iniziare subito, prego la regia che sono io poi di andare avanti e vediamo, questo qui è il primo, è la prima domanda che vi viene posta. Please, voglio vedere tutti che guardano sul cellulare, su whatsapp, fate click, verrete trasportati su una pagina che è quella del sondaggio, è molto semplice, scegliete la vostra risposta, quella che vi sembra più vicina alle vostre idee, insomma, no? È tutto chiaro? Ah, tra le altre cose avete anche la possibilità di collegarvi via wifi, eh? Come? Non lo so, francamente, non credo che sia possibile risposte molte, ma fate e rispondete quella che vi sembra più vicina, e se no non rispondete, non è obbligatorio. Poi, siccome siamo a Verona, chi non risponde sarà obbligato da Virginia Gambino a imparare a memoria i canti di Catullo, in latino, che era qui della zona, vedete un po' voi. Problemi? Ci siamo? Possiamo passare alla seconda? Passiamo alla seconda. La seconda è semplicemente una previsione, un sentiment su quello che è, come dire, l'andamento dell'edilizia per il prossimo anno. Aspettiamo un attimo, mi sembrano, come dire, che le domande siano abbastanza, le scelte siano anche abbastanza tranquille. Andiamo con il terzo. È una previsione su come voi intendete affrontare il problema dell'inflazione dei prezzi, come lo gestite. Poi sarà anche il tema di Alberto Bubbio che seguirà. Sono tutte queste domande, sono tutte, come dire, colgono gli aspetti più generali che verranno affrontati di seguito. Tra le altre cose approfitto per dirvi che dopo, come dire, le relazioni, gli interventi, ci saranno due collaboratrici ai fianchi e con un microfono per chi intende porre delle domande. Votate, votate, votate. Ci siamo? Passiamo alla quarta e ultima domanda. La sostenibilità. Un grande tema. Un tema, diciamo, che viene affrontato a seconda delle opinioni come un problema di business o come un problema, diciamo, tra virgolette, etico. E ognuno si darà la sua risposta. Quale vi sembra sia più adatta al vostro modo di vedere? Io vedo chi non vota, poi riferisco a Virginia. Attenzione. Vado? Ok. Allora, votazioni, direi, concluse. Direi che la regia può farci vedere il risultato in diretta. Cominciamo con la risposta numero uno. Eccola qua. Lo vedo anch'io adesso. Allora, avete intenzione di investire sul punto vendita? Investiremo sulla tecnologia, direi che è il 44%, quindi la grande maggioranza, insomma, maggioranza relativa, si direbbe, in Parlamento, intende investire e su... Comunque investire anche senza, diciamo, prevediamo, vedremo come, quindi soldi non mancano, investimenti in vista, investiremo sul punto vendita fisico, quasi il 16%, e pochi decidono invece di, come dire, forse, che non è il momento, insomma, non sono ottimisti. Ok, andiamo sul 2. Oh, che cosa prevedete per l'indirizzo? Qui mi sembra un po' più controversa. La vostra opinione è, diciamo, equamente divisa tra ottimisti e pessimisti, o perlomeno, diciamo, preoccupati. Una fase ancora positiva, il 24, però energia e inflazione. Direi che è abbastanza bilanciato tra, come dire, chi vede un 2023 simile al 2022 e chi invece vede anche delle ombre. Vediamo il numero 3. Come affrontate? Abbiamo i listini, qui mi sembra che ci sia una strabordante maggioranza che decide di adeguare i listini a quelli che sono i prezzi dei materiali. Freniamo gli aumenti quanto possibile. Insomma, direi che è abbastanza esplicito questo. Il professor Bubbio prende nota subito. Vediamo il quarto. La sostenibilità moderatamente, ma al trend non si fermerà. Anche qui c'è una maggioranza netta, comunque. Cioè, il tema della sostenibilità è ben presente a tutti quelli che distribuiscono. Ma anche se non è un concetto popolare, però il 25, direi che è, come dire, forse rispetto all'opinione generale, molto più presente di quanto non si possa pensare. Direi che, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, sono risultati, mi sembra, molto interessanti. Alcuni forse sfattano anche delle opinioni diffuse che nella realtà, almeno nella vostra, in questo panel, che per me sembra un panel molto rappresentativo, non hanno modo di vedere. Grazie. 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 Grazie a tutti.